Ciao a tutti ragazzi, oggi si parlerà di un argomento un tantino diverso dal solito. Si parlerà di come omologare dei cerchi di una misura più grande. È un problema in cui mi sono ritrovato con la Nissan, perché appunto quella macchina lì al libretto aveva i cerchi da 15 con la gomma spalla 60. Quindi come potete immaginare fa abbastanza schifo come cosa. Quindi ho optato a omologare dei cerchi da 17. Come si fa a fare questo passaggio qua? Ci sono due metodi sostanziali. Il primo è con un'agenzia. Io per esempio mi sono affidato alla CETOC, che dopo vi faccio vedere come si fa. O se no fare attraverso la casa madre o la casa produttrice insomma della macchina. Perché vi dico questo? Perché per esempio nella CETOC, come potrete vedere successivamente, non ci sono tutte le marche delle auto. Ce ne sono certe, determinate, limitate. Quindi per le altre autovetture appunto che non sono presente in quella agenzia, bisognerà rivolgersi o ad altre agenzie o appunto alle case madri. E dopo vi spiegheremo anche questo. Ora vi spieghiamo il primo metodo, cioè come ottenere nulla osta tramite agenzia. Quindi passiamo sullo schermo del computer e vi faccio vedere appunto come si fa il procedimento. Bene raga, quindi dovete googolare CETOC, andate sul sito della CETOC, come potete vedere qua. Dopodiché andate su servizi, si apre, andate fino in giù, cliccate su nulla osta. Da nulla osta bisogna scendere fino in fondo e vedrete tutte le macchine. Vedete Daihatsu, Land Rover, Jaguar, Mazda, Nissan, Renault, Rover, Toyota e Volvo. Ci sono solo queste purtroppo sulla CETOC, però dopo vi spiegherò il perché. Andiamo sulla Nissan, quello che ho fatto io appunto per l'S13, download del modulo e vi arriva fuori il modulo. Vedete qua dovete mettere i vostri dati, il numero di telaio qua sotto e dopodiché mettete la misura dei pneumatici che avete a libretto e quelli che volete mettere. Dopodiché compilate qua sotto con altri dati e salvate il tutto. Dopo che avete scaricato il modulo del nulla osta dovete semplicemente stamparlo, compilarlo a mano, fargli una bella foto e inviarlo alla mail che troverete sempre nel sito della CETOC. Dopodiché bisognerà pagare 134 euro all'incirca, poi dipende da macchina a macchina mi sa. E ti arriverà dopo una settimana, all'incirca una settimana e mezza, ti arriverà a casa con la posta classica, una bella lettera con la fattura e una bella lettera con il nulla osta che durerà 6 mesi. In questi 6 mesi voi potrete girare con i cerchioni di una misura maggiore, a patto che li facciate montare da un gommista. Perché da un gommista? Perché serve una certificazione di corretto montaggio, cioè in parole povere. Bisogna chiedere al gommista che quando ti monta le gomme ti firmi una carta con su scritto guarda ti ho montato le gomme tali dei tali e sono state montate correttamente. Dopodiché voi prendete il vostro bel nulla osta e il bel vostro certificato di corretto montaggio, ve li mettete nel cassettino della macchina e potete andare in giro tranquillamente per 6 mesi con le gomme maggiorate, possiamo chiamarle così. Però attenzione perché se vi scadono i 6 mesi dopodiché siete a passi di prima, cioè non potete montare i cerchioni. Quindi cosa dovete fare dopo questo momento? Dovete fare il collaudo. Cos'è il collaudo? Il collaudo è una revisione praticamente dello pneumatico sulla macchina. Ci sono due modi per fare il collaudo, cioè sempre tramite agenzia, pratiche auto e revisioni o con la motorizzazione. Vi consiglio di farlo con un'agenzia pratiche auto perché è un po' più veloce come tempistiche. Di solito le motorizzazioni è un po' più lenta e magari sono anche un po' più puntigliosi. Quindi cosa fate? Per esempio noi ci siamo rivolti in un'agenzia a Verona, nella nostra zona, vi fissate l'appuntamento e dopodiché ci sarà il collaudo, cioè il controllo appunto dello pneumatico se va bene con i canoni che ci sono. Una cosa molto importante da guardare e che guarderanno sicuramente anche loro è questo numerino che viene dopo la misura dello pneumatico. Per esempio io vado a montarmi le 205, 45 e 17. Poi sapete che c'è un numerino? Tipo nella mia sono 82V mi sembra. Quello lì è l'indicazione della velocità massima che può raggiungere lo pneumatico. State attenti quando mettete degli pneumatici rispetto a quelli che ci avete prima. State attenti che abbiano lo stesso numero non inferiore o lo stesso o maggiore allo pneumatico che avete precedentemente sul libretto. Io avevo i 15 e avevo 80V, quindi sono dovuto andare a prendere degli 82V. Potevo prendere anche degli 80. Quindi fate questa cosa qua che è molto importante perché sennò rischiate che dopo non ve la passino e questo è il primo metodo. Il secondo è molto simile a questo qua. Cambia semplicemente dov'è che andate a farlo. In poche parole. Appunto potrete andare alla Nissan, visto che stiamo parlando di Nissan, alla casa madre e andate a chiedere il nulla osta anche lì. Se la macchina è una macchina recente diciamo è più probabile che nei modelli che sono usciti della stessa gamma ci siano misure differenti già presenti. Per esempio facciamo finta tipo un BMW serie 1. Il vostro BMW è un po' sfigatino. Ha soltanto i 15 ok? Però il BMW serie 1 ne sono usciti di tanti modelli, tante serie e infatti ci avranno tante tipologie di cerchi montabili. Quindi se voi avete questo vantaggio, cioè avete questo serie 1, quindi andate in BMW e gli chiedete guarda io vorrei montare dei cerchi da 18 per esempio. Se nell'annata di produzione della serie 1 ci sono stati dei modelli che hanno avuto dei 18, il nulla osta non vi costerà praticamente niente. Perché è già presente quindi ve la trascrivono e dopo voi potete girarci tranquillamente e questo è un grande vantaggio. Ma se invece avete delle macchine come la Nissan che non ci sono, sono solo da 15, dovete fare tutta questa procedura. E dovete farla comunque anche alla casa madre se in queste agenzie qua vi mancano appunto i modelli. Come avete visto prima su quello della Cetoc per esempio la BMW e la Volkswagen non ci sono. Quindi lì dovete rivolgervi o ad altre agenzie, pratiche auto, o alla casa madre. Questo è tutto ragazzi, volevo parlarvi appunto di questo perché secondo me è una cosa molto importante. Nel senso, visto che in Italia è difficile fare tutte queste procedure e bisogna star lì a ricercare per riuscire a capire un po' di più. Spero che con questo video vi abbia un pochettino illuminato su certe procedure. Quindi restate sempre con Di Traverso, se volete vedere altri contenuti del genere iscrivetevi al canale perché per noi è molto importante per continuare a crescere e soprattutto per continuare a portare contenuti. E alla prossima raga, restate sempre con Di Traverso.